Arrivando da via 4 Novembre, un SUV ha imboccato via Tononi a forte velocità, ha percorso poche decine di metri e all'altezza di via Nicolodi, curvando a sinistra, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro due auto in sosta, una Clio e una Twingo. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dalle persone che si trovavano all'esterno di un locale di Piacenza intorno alle 22.45 di ieri sera. Ancora attonita per quanto avvenuto davanti ai suoi occhi, una ragazza ha raccontato «Ho visto quell'auto venire verso di noi a folle velocità, non ho più parlato per dieci minuti». Le conseguenze potevano essere ben peggiori, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In base alla ricostruzione, il conducente della Hyundai Tucson non si è fermato dopo l'impatto, ha fatto retromarcia ed è ripartito verso via Nicolodi, ha proseguito fino in via Negri, dove è uscito dall'auto, ha poi continuato a piedi, abbandonando il mezzo e la ragazza che si trovava a bordo con lui. Il giovane poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri del radiomobile di Piacenza. Si tratta di un uomo di origini indiana e residente nell'Odigiano. È stato denunciato per danneggiamento.